Come sapete tutti c'è stata la fiera di Foggia, la fiera dell'ottobre da Uno, era presente anche lo sport con il consorzio Esportiamo Foggia. Vediamo insieme questo servizio. Esportiamo Foggia è l'invito che gli ideatori del consorzio, che porta il medesimo nome, hanno fatto ai tantissimi visitatori presenti nel padiglione fieristico, fino alla conclusione nella tarda serata di ieri. Esportiamo Foggia è l'acronimo che dimostra quanto queste persone amino lo sport, quello dei sacri principi della lealtà e della valorizzazione dei giovani locali e amino la propria terra, la capitanata. E così ieri si è concluso un percorso che ha visto in campo tantissimi ragazzini delle società sportive partecipanti, mischiati ai tantissimi ragazzi che erano stati costretti dai genitori a passare il pomeriggio in fiera, senza minimamente sapere quale bella sorpresa questo consorzio aveva preparato per loro calcio, basket, baseball, scherma, atletica, ciclismo, arti marziali, fitness, box, pattinaggio, pallavolo, ma anche gruppi di tifosi rossoneri e la cultura, con la vendita associata di un libro e un DVD. Tutto questo è stato l'intervento di Esportiamo Foggia in fiera, ma siamo soltanto agli inizi e il commento in coro degli ideatori Giuseppe Roberto e Massimiliano Belgioioso. Esportare il buono che c'è a Foggia si può e loro ne sono fermamente convinti. E complimenti davvero agli ideatori di questo consorzio a quanto hanno saputo fare alla fiera di Foggia.